Non riesce l'impresa alla Sigma a Barcellona che nonostante i buoni propositi della vigilia non riesce a violare il Palaruffini di Torino. I giallorossi non riescono quindi a sfatare quell'antipatico tabù per il quale durante la stagione in corso non sono riusciti ancora a vincere sul campo di una delle big del torneo. Non certo un buon segno, ma sperare che il trend possa cambiare nell'eventuale post-season è assolutamente lecito. I giallorossi sono ormai davvero ad un passo dalla certezza di disputare play-off. Basterà battere Napoli domenica prossima al Palalberti ci sarà piuttosto da difendere il sesto posto dal momento che dopo la sconfitta di Torino il quinto posto è irraggiungibile anche alla luce degli scontri diretti sfavorevoli alla Sigma. Dietro invece Veroli preme per insidiare la sesta piazza appunto e qualora i punti di distacco dalla Sigma dovessero rimanere due potrebbe presentarsi con il coltello tra i denti allo scontro diretto casalingo in programma l'ultima giornata. Insomma sarà un finale palpitante e sicuramente alla vigilia del torneo gli auspici erano ben altri. Riguardo alla partita di ieri dopo aver tenuto botta nei primi due quarti portandosi anche sul più 4 nel primo quarto trascinata dalle tripli di Young e dai liberi di Maresca la Sigma ha poi subito il ritorno di Torino che ha ingranato le marce alte scappando via. Lo strappo definitivo nel terzo quarto complice anche un antisportivo fischiato a Young. Dopo essere sprofondati addirittura sul meno 17 tuttavia i giallorossi sono riusciti a mitigare il gap chiudendo sull'86-76. Grazie. 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 Grazie.